Il drago dalle sette teste C'era una volta un uomo pescatore, la cui moglie, benché sposata da tempo, non gli faceva figli. Un bel giorno il pescatore se ne andò con le sue reti a pescare nel lago vicino e gli riuscì da chiappare un pesce di grande bellezza e grossezza. Appena tratto fuori dall'acqua, il pesce prese a supplicare l'uomo che si contentasse di lasciarlo andare via e in cambio gli prometteva di insegnargli, in uno stagno in quei dintorni, dove avrebbe potuto in un momento fare una pesca ben più ricca. A sentire parlare un pesce, il pescatore si impaurì e senza starci a pensare di adderlibertà alla bestia che subito sparì giù nell'acqua. Ma il pescatore è andato a quello stagno. In due o tre retate di pesci ne acchiappò tanti e tornò a casa più carico di un ciucco. La moglie volle sapere come gli era andata da portare a casa tutto quel pesce e lui per filo e per segno gli disse ogni cosa. La donna, a quella nuova, imbizzita contro il marito fa «Mamma Lucco, ti sei lasciato scappare un pesce così bello! Vada di ritrovarlo domani, che lo voglio qui e voglio ammanirlo in un intingolo che ci caverà la voglia di pesce per un pezzo!» Lì domani il pescatore, per far contenta la moglie, torna al lago e butta la rete e di nuovo tira su il pesce che parla. Ma anche stavolta l'uomo si lasciò commuovere dalle suppliche e dai pianti del pesce e gli dia della via e poi di pesca ne ebbe quanta ne volle nel solito stagno. La moglie però, quando il pescatore tornò e le raccontò, uscì fuori dai gangheri, mise le mani sui fianchi e gliene disse di tutti i colori «Bue, uomo di stoppa, non t'accorgi che è la fortuna che vuol venirti incontro a tutti i costi e tu la disprezzi così o domani mi porti il pesce o te ne farò pentire io! Inteso!» A Bruzzolo riecco il pescatore al lago butta le reti, tira e ci ritrova dentro il pesce. Stavolta non state lì a badare a pianti né a parole. Corse a casa filato e consegnò il pesce ancora vivo nelle mani della moglie che lo gettò in un catino d'acqua fresca. Si misero tutte e due intorno al catino a riguardare quel pesce quanto era grosso e a ragionare qual era il modo migliore di cucinarlo. Allora il pesce fatto capolino fuor d'acqua disse «Visto che per me non c'è rimedio e mi tocca di morire lasciate almeno che faccia testamento». Il pescatore e la moglie gliela accordarono e il pesce così parlò «Quando sarò morto cotto e tagliato in due la mia carne se la mangi la donna in brodo della mia lessatura datolo da bere alla cavalla buttate la mia testa alla cagna e le tre lische più grosse piantatele ritte nell'orto il fiele appendetelo a una trave in cucina avrete dei figliuoli ma quando a qualcuno di questi figli succederà qualcosa di brutto il fiele suderà sangue. Dopo ammazzato e cotto il pesce i due seguirono a puntino quel che lui aveva detto e accadde che la donna la cavalla e la cagna figliarono tutte e tre la stessa notte e la cagna fece tre cagnolini la cavalla tre puledri e la donna tre bambini maschi il pescatore disse «Guarda un po' in una notte sono nate nove persone i gemelli si somigliavano tanto tra loro che non era possibile riconoscerli se non gli si metteva un segno addosso». Dalle rischi piantate nell'orto invece vennero su tre belle spade. Quando i ragazzi furono giovanotti grandi il babbo diede loro un cavallo un cane e una spada per uno e di suo ci aggiunse uno schioppo da caccia ma presto il primo genito si stancò di starsene in casa in povertà e volle andare per il mondo in cerca di fortuna monta a cavallo prende il cane con sé la spada e lo schioppo ad armacollo saluta tutti quelli di casa e se ne va prima di partire dice ai fratelli caso mai il fiele appeso alla trave sanguinasse venite a cercarmi perché io sarò morto o mi sarà successa qualche disgrazia addio e via al galoppo il primo genito dopo aver cavalcato molti giorni per paesi ignoti giunse alle porte di una gran città tutta abbandonata entrò gli abitanti vestivano tutti di nero e in faccia erano tristi va a un'osteria si mette a un tavolo a mangiare e domanda all'oste il perché di tutto quel nero l'oste gli disse come non sapete che c'è un drago con sette teste che ogni giorno a mezzogiorno viene fin sul ponte e se non gli si dà una ragazza da mangiare entra in città e divora quanta gente gli capita tirano a sorte ogni giorno oggi è toccato alla figlia del re e a mezzogiorno bisogna che sia sul ponte per farsi mangiare il re però ha messo un foglio alla colonna e c'è scritto che la dà in moglie a chi riesce a liberarla il giovane disse e non ci sarà verso di salvare la figlia del re e liberare la città da un tale flagello io ho una spada forte un forte cane e un forte cavallo andiamo conducetemi dal re subito condotto alla presenza di sua maestà il giovane gli chiese il permesso di combattere il drago e di ammazzarlo ma re gli rispose giovanotto ardito sappi che molti prima di te hanno tentato l'impresa e ci hanno rimesso la vita poveri sciagurati ma se a te garba di rischiarla e vinci il drago avrai la mia figlia in sposa ed erediterai il regno alla mia morte per nulla impaurito il giovane prese il cane e il cavallo e si andò a sedere sulla spalletta del ponte a mezzogiorno preciso arrivò la figlia del re tutta vestita di seta nera col suo seguito quando furono a metà del ponte quelli del seguito tornarono indietro piangendo e lei rimase lì sola si voltò e vide seduto sul ponte uno con un cane gli disse calentuomo che fate qui non lo sapete che ora viene il drago a mangiarmi e se vi trovo mangerà anche voi giusto appunto rispose il giovane sono qui per liberarvi e per sposarvi piangendo la principessa disse disgraziato va via se no il drago ne avrà due da divorare oggi invece di me sola è un drago tutto pieno di incantesimi come vuoi fare ad ammazzarlo il giovane che a guardare la principessa se n'era innamorato disse tant'è ormai per amor vostro voglio correre questo rischio e come sarà sarà avevano appena finito questi ragionamenti che l'orologio del palazzo scoccò mezzogiorno la terra cominciò a ballare si spalancò una buca e di là tra mezzo il fuoco e il fumo scaturì il drago dalle sette teste e senza tentennare con le sette bocche aperte si avventò sulla principessa fischiando tutto dalla gioia perché aveva visto che quel giorno gli era stato preparato un pasto di due corpi umani ma il giovane non stette lì a pensarci sopra salta di un balzo a cavallo sprona contro il dago gli aizza contro il cane e con la spada comincia a dar giù a dritto e a rovescio tanto che una dopo l'altra gli tagliò sei teste allora il drago domandò un po' di riposo e il giovane che era anche lui senza fiato disse riposiamoci pure ma il drago la testa che aveva la sfregò per terra e tornò ad attaccarsi tutte le altre sei quando vide questo il giovane capì che doveva tagliarle tutte sette in una volta e ci si buttò tutto di slancio che a furia di spadate dritte e rovesce ci riuscì poi con la spada togliò tutte e sette le lingue e chiese alla figlia del re ce l'hai un fazzoletto da naso la principessa glielo diede e il giovane ci mise dentro le sette lingue poi rimontò a cavallo e se ne andò a un albergo per cambiarsi i vestiti tutti polverosi e insanguinati e comparire alla presenza del re pulito e in ordine vuole il caso che in una casuccia vicino al ponte abitasse un carbonaio di gran furbizia e cattiveria che aveva visto da lontano il combattimento pensò il carbonaio approfittiamo di questo monaccione che lascia le teste del drago per terra e perde il tempo a vestirsi per far bella figura andò riattaccò le teste mozzate ne nascose dentro un sacco e brandendo un contellaccio insanguinato del sangue del drago cosse dal re e gli disse sacra corona ecco davanti a voi l'ammazzatore del drago e queste sono le sue sette teste che col coltello che vedete gli staccai dal corpo a una a una dunque sacra corona mantenetemi la parola reale e datemi vostra figlia e mi sposa il re a vedersi davanti quel brutto cefo rimase male e la storia non ci vedeva chiaro sospettò perfino che il giovane ardito fosse stato divorato e il carmonaio fosse giunto all'ultimo quando il drago era già sfinito e gli avesse dato solo il colpo di grazia a ogni modo la parola reale non si cambia e gli toccò replicare se proprio le cose stanno così mia figlia è tua pigliatela pure incolmentere la principessa nella sala d'udienza a sentire quel contratto cominciò a gridare che il carmonaio era un buciardo e non era lui ad aver ucciso il drago bensì era quel giovane che sarebbe ora venuto a palazzo nacque un gran batibecco ma il carmonaio tenne duro e mostrava le teste nel sacco come prova il re visto che il contrassegno c'era non potè disdire e dovete ordinare alla figlia di chetarsi e prepararsi pure a diventare la sposa di quel carmonaio subito il re comandò che fosse dato al popolo l'annunzio e si preparassero tre giorni di corte bandita con tre grandi conviti e all'ultimo si sarebbero celebrate le nozze intanto il vincitore vero del drago venne a palazzo reale ma al portone le guardie non vollero farlo passare a nessun costo e nello stesso momento egli sentì il banditore che dava per le piazze l'annunzio degli esponsali della principessa con il carbonaio il giovane ebbe un bel protestare chiese che lo lasciassero parlare con il re le guardie non gli diedero neanche ascolto stettero dure come massi finché non apparve il carbonaio e disse che il giovane fosse cacciato via di forza senza indugio al poveretto non restò che andarsene con tutta la sua rabbia in corpo tornò all'albergo e si mise ad almanaccare qualcosa per impedire quelle nozze scoprire l'inganno e farsi riconoscere come l'uccisore del drago a corte imbandirono la mensa e tutta la nobiltà fu invitata il carbonaio lo misero vicino alla principessa tutto vestito di velluto e poiché era piccolino di statura gli misero sette cuscini sotto il sedere così sembrava un po' più alto il giovane nell'albergo pensa che ti pensa chiamò il cane accucciato ai suoi piedi e gli disse Taufido corri va dalla figlia del re falle le feste a lei sola ti raccomando e prima che comincino a mangiare butta l'aria alla mensa e scappa ma bada di non farti acchiappare il cane che capiva quando il padrone parlava partì di corsa e saltò con le zampe in grembo alla principessa e bramiva e le dava gran linguate alle mani e al viso lei lo riconobbe e si rallegrò molto di vederlo e carezzandolo gli chiedeva in un orecchio dove fosse il suo liberatore ma il carbonaio insospettito di tutte queste carezze voleva far scacciare il cane dalla sala ecco che mettono la zuppa in tavola il cane allora addenta una cocca della tovaglia e giù tira per terra la tovaglia con tutto quel che c'era sopra in un mare di cocci poi via a gambe levate per le scale che nessuno poter aggiungerlo né vedere da che parte andasse tra gli invitati c'era uno scompiglio da non si dire dovessero sospendere il banchetto e la cosa fece assai rumore quando fu il secondo banchetto il giovane disse al cane toffido corri e fa come ieri a rivedere il cane la principessa si mise a ridere dalla contentezza ma il carbonaio pieno di timore e sospetto voleva assolutamente che il cane fosse cacciato a suon di busse la principessa invece lo difese con tutte le sue forze e il carbonaio per quanto di malanimo non osò contraddirla anche stavolta portata la zuppa in tavola il cane lesto addenta la tovaglia tira in terra ogni cosa e scappa più del vento guardi i servitori dietro ma ebbero un bello affannarsi e lo persero di vista al terzo banchetto disse il giovane no fido corri e fa lo stesso delle altre volte ma stavolta lasciati inseguire fin qui da me il cane eseguì tutto a puntino e le guardie dietro il cane arrivarono fino alla stanza del giovane lo arrestarono e condussero davanti al re il re lo riconobbe ma non sei tu quello che voleva salvare mia figlia dal drago sì sono io maestà e l'ho salvata a quelle parole il carbonaio cominciò a vociare non è vero il drago l'ho ammazzato io con le mie mani tant'è vero che ho portato io le sette teste e gli ha ordini che le sette teste fossero deposte ai piedi del re il giovane senza scomporsi si rivolse al re e gli disse se lui ha portato le sette teste io per non caricarmi tanto peso ho portato solo le lingue guardiamo un po' se queste teste hanno le loro sette lingue nella bocca le sette lingue non ce le trovarono allora il giovane tirò fuori di tasca il fazzoletto dove le aveva involte e per filo e per segno raccontò com'era andata il carbonaio però non voleva darsi per vinto pretese che le lingue si dovessero misurare ognuna al suo posto per vedere se ci stavano e ogni volta che la prova riusciva dalla robbia scaraventava via di sotto il sedere uno dei sette cuscini e quando fu all'ultimo sparì sotto la tavola e scappò ma lo presero subito e per comando del re seduta stante fu impiccato nella piazza tutti allegri re sposa e convitati si sedettero a mensa a far baldoria e conclusero le nozze poi venne notte e ognuno andò a dormire appena giorno il giovane si levò aperse la finestra e vide di rimpetto una gran selva piena d'uccelli e gli venne voglia ad andarvi a caccia ma la moglie lo scongiurò di non andare perché era una selva incantata e chi c'entrava non tornava più a casa il giovane che più gli si diceva di un pericolo più gli veniva voglia di provare prese il cavallo il cane la spada e lo schioppo e se ne partì aveva già cacciato molti uccelli quando si levò un temporale che pariva il finimondo con lampi tuoni fulmini e sette e l'acqua che veniva giù a bocca di barile il giovane molle fino alle ossa persa la strada con la notte che era ascesa vide una grotta e vi si rifugiò era una grotta piena di statue statue di marmo bianco in diversi atteggiamenti ma il giovane stanco e fradicio non ci badò troppo radunò della legna secca e con l'acciarino accese un po' di fuoco per asciugare i panni e cuocere gli uccelli di lì a un po' nella grotta venne a cercare rifugio una vecchiarella fradice di pioggia da capo a piedi battendo i denti intirizzita e pregò il giovane di lasciarla riscaldare al fuoco lui disse venite pure nonnina che mi terrete compagnia la vecchiarella si sedette e offrì al giovane del sale per gli uccelli arrostiti della crusca per il cavallo un osso per il cane e della sugna per ungere la spada ma appena il giovane il cavallo e il cane bero mangiato e la spada funta tutti diventarono statue di sale lì ferme dove erano la principessa non vedendo tornare più il suo marito lo credette morto e re addolorato diede ordine che la città si vestisse di nero intanto nella casa del pescatore dal momento in cui il figlio primo genito era partito ogni giorno il padre e i fratelli guardavano il fiele appeso alla trave un giorno trovarono la cucina tutta allagata di sangue che pioveva giù dal fiele allora il secondo genito disse mio fratello maggiore o è morto o gli è successo una gran disgrazia vado a cercarlo addio montò a cavallo col cane la spada lo schioppo ad armacollo e via al galoppo dappertutto dove passava il secondo genito domandava alla gente di suo fratello uno che somiglia a me l'avete visto e tutti ridevano oh bella non siete voi lo stesso dell'altra volta così giovane capiva che anche il suo fratello maggiore era passato di lì e andava avanti arrivò alla città reale e quando la gente tutta vestita di nero lo vide entrare fece gran meraviglia ma è lui è lui allora è salvo evviva evviva il nostro principe lo condussero dal re e tutta la corte principessa compresa lo presero per il primo genito il re gli fece una ramanzina che non finiva più e il secondo genito facendo finta di niente si scusò e fece la pace anche con la principessa e si seppe così ben rigirare tra domande e risposte che riuscì a sapere tutto di suo fratello delle sue nozze e della sparizione di notte andando a letto il secondo genito si tolse la spada e la mise di taglio in mezzo al letto dicendo alla principessa che avrebbero dormito uno da una parte e uno dall'altra la principessa non capì bene perché ma andarono a letto e si addormentarono a Bruzzolo appena levato anche lui ha perso la finestra e vide la selva lì di fronte e disse voglio andare a cazza laggiù e la principessa ma non ti basta il pericolo che hai scansato una volta e l'ansia che mi hai fatto soffrire lui non le diede retta e partì con il cavallo cane, spada e schioppo quel che era successo al primo genito successe anche a lui e restò anche lui nella grotta tramutato in statua e la principessa non vedendolo tornare pensò che stavolta era perso per davvero e la città di nuovo si vestì a luto per comando del re in casa del pescatore intanto la cucina sarà nuovamente allagata di sangue colato giù dal fiele appeso alla trave il terzo genito non stette a pensarci su e partì alla ricerca dei fratelli col cavallo il cane la spada lo schioppo e via al galoppo cammin facendo anche lui domandava sono passati di qui due giovani tali e quali come me e la gente che tipo buffo che siete venite sempre a chiedere la stessa cosa ma non siete sempre voi che matto che siete così il terzo genito sapeva di essere sulla buona strada e arrivò alla città lo si è ricevuto con gran festa come un morto resuscitato e il re la principessa e la corte lo credettero sempre il primo genito lui pure andò la sera a letto con la principessa e mise la spada in mezzo al letto e dormirono lui da una parte e lei dall'altra e la mattina dalla finestra vide la selva e disse vado a caccia la principessa ancora una volta a disperarsi vuoi proprio andare in perdizione e questo è il bene che mi vuoi farmi morire di paura ogni volta ma il terzo genito non vedeva l'ora di ritrovare i fratelli e partì rifugiatosi nella grotta per il temporale guardò le statue una per una e vi riconobbe i due fratelli disse tra sé qui c'è certo qualche inganno starò con gli occhi bene aperti aveva appena acceso il fuoco e stava arrostendo gli uccelli quando comparve la vecchina e tutta serimoniosa gli chiede che la lasciasse scaldarsi ma il giovane gli lanciò un'occhiata storta e le disse fatti in là brutta strega che accanto a me non ti ci voglio la vecchiarella parve scombusolata a quell'accoglienza e pienucolando rispose ma non avete proprio carità del prossimo eppure io ho da offrirvi come cenar meglio del sale per gli uccelli arrosto crusca per il cavallo un osso per il cane e perfino della sugna per ungere le armi che non si arrugginiscano e giovane allora vecchia manandrina a me non me la fai grida e le salta addosso la butta per terra e con un ginocchio la tiene lì inchiodata destrizza la gola con la mano sinistra e con la mano destra sfodera la spada e gliela mette sul collo dicendo a denti stretti stregaccia infame o mi rendi fratelli o ti scanno in questo preciso momento la vecchierella cercava ancora di protestare che non aveva fatto mai male a nessuno ma il giovane stava lì per segarle le canne della gola sì che la vecchierella confessò tutto l'incantesimo e gli promise che l'avrebbe obbedito pur d'aver salva la vita e subito trasse di tasca un vasetto d'un guento per ridare la vita alle statue il giovane di lasciarla andare non ci pensò nemmeno e con la scimitarra alle reni la obbligò a far lei l'unzione delle statue a una a una tutte le statue ridiventarono persone vive e la grotta ne fu piena i fratelli appena si videro si abbracciarono stretti allegri e tutti gli altri non sapevano trovare parole bastanti a ringraziare il terzo genito e in quel trambusto la strega cercò di svignarsela e quasi si riusciva se i tre fratelli non se ne fossero accorti e corsero addosso e la squartarono senza misericordia l'incantesimo della selva fu rotto e il primo genito ne prese il vaso dell'unto che rendeva la vita ai morti nel ritorno alla città reale tutti in un branco quei liberati dall'incanto parlavano tra loro e i tre fratelli si raccontavano quel che era loro accaduto ma il primo genito quando sentì che gli altri fratelli avevano dormito con la principessa sua moglie fu preso dalla rabbia e dalla gelosia sfoderò la spada e li amazzò aveva appena commesso questo delitto che gli nacque in cuore un gran rimorso e voleva a ogni costo rivolgere la spada contro la sua gola benché tutti quegli altri signori lo tenessero allora si ricordò di quel vaso d'un guento unse le ferite dei fratelli morti ed ecco che si alzarono in piedi risanati e vispi come se nulla fosse successo pieno d'allegria il primo genito chiese loro perdono e loro gliel'accordarono dicendo che sbagliava e spiegandogli della spada in mezzo al letto e seguitarono il cammino finché giunsero dal re chiamarono la principessa che dal gran piangere era diventata secca come una lucertola e che rimase confusa perché dei tre non sapeva più quale fosse suo marito ma il primo genito si fece riconoscere e presentò i fratelli che il re fece sposare a due figlie di quei nobili uomini liberati e li nominò impiegati di corte e fecero venire a palazzo anche i vecchi pescatori di corte di corte di corte di corte di corte